buon pomeriggio amici come ho detto ho detto promesso sono tornato un nuovo video parlando proprio della settima giornata prima della pausa delle nazionali bene della settima giornata della serie a partiti interessanti partire da vedere assolutamente quindi non perdiamoci ragazzi si comincia da domani si comincia da domani il sassuolo che affronta l'udinese affronta l'udinese che si trova al penultimo posto il sassuolo è secondo il sassuolo in forma il sassuolo cammina il sassuolo combatte anche perché perché è un sassuolo che comunque dà fastidio a tutti dà fastidio molto 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 io credo che qui metterò 1x perché il sassuolo è forte in casa ma lo sassuolo in se vuole anche fare il suo quindi metterò 1x il cagliari che giocato gioca sabato alle 15 conto la samp un cagliari che non sta andando male male ea sette punti dicesimo posto e 9 nona posizione la samp a 10 quei ragazzi è un po difficile perché sono entrambe squadre forti entrambe squadre che segnano e proprio vorrei mettere diciamo un pronostico facile metterò un over 1 e mezzo perché mi dite perché non metti gol io potrei mettere anche gol ma sapete bene che io non mi piace tanto rischiare su certe partite quindi io metterò over 1 e mezzo benevento spezia ecco questa è una partita molto molto equilibrata molto molto interessante entrambe le squadre stanno andando bene il benevento a quattordicesimo posto con sei punti e lo spezia si trova a 5 certo forse entrambi vorrebbero vincere per allontanarsi un po da quella zona critica e quindi io qui ragazzi metterò multi gol 13 casa che il benevento segna almeno un gol massimo 3 andiamo avanti con il parma che sempre di sabato gioca contro la fiorentina un palma un palma in forma un palma che da farsi da tutti e visto una volta scorsa non me lo voglio ricordare un gervinio in forma un gervinio che corre fulmina appunto una fiorentina che anche sta andando bene la fiorentina si trova all'undicesimo posto sette punti e il parma quindicesimo posto con cinque punti e quindi non è facile per la fiorentina non è facile fare un risultato e quindi ho qui metterò un over uno e mezzo andiamo avanti con lazio juventus si gioca domenica a mezzogiorno e trenta certo a mezzogiorno e mezza lascio juventus non si può vedere però comunque va bene allora ragazzi la lazio ha un po di problemi sta avendo problemi con questo fatto dei tamponi e perché ne uefa di giocatori diciamo su positivi vale in serie a e su negativi il loro dottore dice che lei tampone sono un po diversi le fanno in una maniera diversa possono essere risultati diversi ma non so per non saprei non saprei dicono che se trovano qualcosa che non va la lazio rischia la retrocessione addirittura quindi comunque sta facendo i conti con poti positivi la juve è tornata in forma ma comunque ragazzi si parla di lazio sempre di lazio vedremo se recupererà qualcuno credo che qualcuno recuperi io metterò gol entrambe le squadre andranno a segno queste squadre secondo me insegnano entrambi andiamo avanti con genoa roma che si gioca alle 15 c'è anche atalanta inter ma la tirò per ultima genoa roma il genoa che ha perso la partita di recupero ieri contro il torino e quindi si deve diciamo deve tornare diciamo a dare il massimo giocare bene la roma ritrova un'identità la roma ricomincia a giocare bene la roma comunque oggi giocherà anche con l'europa league vedremo se cosa farà e però ragazzi non mi sento di dare un risultato fisso perché qua in genere ragazzi è una bella squadra e non devo e non possiamo dire di no quindi non vuol fare neanche la questa partita io metterò metterò molti gol 13 ospite che la roma segnerà uno massimo tre gol andiamo avanti con il torino che affronta il crotone il torino che dopo la vittoria il salito di un posto e sta a quattro punti il crotone a 1 io credo che il torino qua dovrebbe forza ma dico per forza deve vincerla questa partita io non vedo il suo crotone così forte come altri lo vedono sì c'è simi non è male ma se non fa qualche innesto in portale in quest'inverno questa rischia di brutto io credo che il torino farà bene io credo che lo farà bene e quindi sono fiducioso metterò un 1 x andiamo avanti con bologna napoli bologna che affronta il napoli e un bologna che non sta andando male male bologna a sei punti il napoli ne ha 11 e quindi bisogna vedere cosa farà il napoli dovrà giocare oggi contro le varie viecca per fare una cosa del genere quindi bisogna vedere più o meno come aggiusterà la formazione ha perso contro il sassuolo non vuol perdere di sicuro neanche questa però trova un bologna che comunque ha sempre fatto bene anche se in ultimamente un po così ma comunque fa sempre del suo meglio metterò un over 1 e mezzo milan verona il milan in forma cioè non si ferma mai un milan che va bene però tante persone si domandano quanto durerà perché ci sono squadre che se voi vedete ragazzi partono uno sprint all'inizio bello forte e poi un po si perdono perché giustamente perdono un po le energie quanto durerà non si sa e nel frattempo il milano in forma però alto la perché trova un verona che comunque ha dato fastidio anche la juve e non è da sottovalutare volevo trovare la partita contro difatti la juve pareggio in casa pareggio in casa con il verona quindi non è facile per il milano non è da sottovalutare veramente difatti risultato fisso non ometto almeno che almeno che ragazzi il milan c'ha tutte le carte per vincerla cioè non è che non le vince ma vinca però comunque trova sempre un verona abbastanza diciamo comunque fastidioso bella bella squadretta c'è una bella difesa quindi bisogna vedere come si comporta il milan dovrà giocare oggi con questa sera contro il lil e quindi vedremo più o meno come arriva io credo che x ci può stare ci può stare anzi facciamo una cosa metterò uno x più over uno e mezzo un combo per alzare un pochino e infine atalanta inter entrambe squadre di champions entrambe hanno perso diciamo la differenza che l'altra atalanta inter che l'atalanta ha giocato con il liverpool ha perso 5 a 0 noi abbiamo giocato con di real madrid abbiamo fatto una buona partita quindi niente per lukaku perché io spero che torri il mio romelone lukaku spero però si vede che l'inter adesso può fare diciamo anche senza lukaku può fare la differenza una squadra è più costruita di ieri l'atlanda rimane rimaste solito a 7 qualche innesto in più però sapete ragazzi con una kim in più con barella più aggressivo con diciamo young ed molto bravo a difendere un lautaro che forse si è ritrovato un persic che vede la porta e segna non so se si giocherà persi di sanchez mi credo più pesici comunque è l'atalanta però non è da sottovalutata che quasi parla sempre della dea atalanta vuol riscattarsi come vogliamo riscattarsi anche noi entrambi vogliono vincere penso più l'inter perché vuol salire di classifica non saprei è una partita difficile io non saprei il risultato metterei gol io credo che entrambe le squadre vanno andando a segno e spero che l'inter venga questa partita puntate comunque 5 euro su questa schedina e ci vediamo questa sera parlando un po di dopo europa league e comunque iscrizione al canale amala sempre